Il mio lavoro è dipingere dal vivo durante gli eventi. Il live painting è la pittura dal vivo. Io l'ho un po', diciamo, trasformata con interazione con il pubblico. Quindi le persone possono diventare, in quel momento, parte integrande di un'opera d'arte. C'è un'aziendale, un momento di condivisione, dove si fanno le somme e le sottrazioni, comunque un momento bello. Per renderlo a volte ancora più bello e unico, si cerca di creare un'attività. Quest'anno il direttore ha pensato questa. Quali valori volete svelare? Ho a che fare con aziende che hanno dipendenti che stanno bene nella propria azienda e in qualche modo lui vuole valorizzarvi e rendervi partecipi a qualcosa di realmente unico. Questo è lo scopo. So che avete avuto tutti la possibilità di scegliere un elemento che vi rappresenta dentro una busta, se non sbaglio. Ce lo avete tutti. Questa non è l'impostazione del quadro che vedete qui. Però sono le chiavi di lettura che vorrò in qualche modo dare nel prossimo lavoro che farò per voi. Che sarò che andrò a fare sicuramente è creare un contrasto cromatico, un contrasto materico, a livello di messaggi, a livello anche di volti. Quindi magari riproporrò delle icone a fiamme. Attraverso i messaggi, attraverso i valori, io vado poi a creare questo contrasto di foto, colore e materia. E quindi qua si vede proprio l'energia della terra, dove nasce il vino della tamborina, mette l'energia. Quindi questo quadro che io farò per voi sarà una sorta di amuleto, di portale, qualcosa che comunque unito con la mia arte, la vostra energia, un po' altro, comunque deve esprimere qualcosa di ancora più potente, qualcosa di ancora più autentico. E a volte il tocco vostro può essere fondamentale anche semplicemente dicendomi una bella frase.